Complice una nuova generazione di console ed un motore di gioco che finalmente sembra essere stato addomesticato a dovere, sono molti i motivi per cui seguire da vicino le ultime fasi dello sviluppo di Pro Evolution Soccer 2015. In occasione del PES Open Day, organizzato da Halifax ed Evriai.it, abbiamo avuto modo di mettere nuovamente mano all'ultima fatica firmata Kei Masuda e Sochi per scoprirne di più. Iniziamo col dire che per i fan di vecchia data questo capitolo di PES ha tutti connotati di un vero e proprio ritorno alle origini. Gli appassionati del calcistico Konami non cercano nel loro beniamino un'imitazione in bella copia del celebre rivale, bensì quella stessa personalità e qualità che dalla fine degli anni 90 fino buona parte del primo decennio del nuovo secolo ha permesso alla saga calcistica di dominare quel campo che ora cerca di riconquistare. Il nuovo capitolo si presenta ai nastri di partenza con una serie di miglioramenti in grado di riportare la memoria indietro nel tempo. Primi fra tutti vanno segnalate le dinamiche di tiro completamente riviste rispetto a quelle del precedente capitolo. Nonostante una lentezza forse ancora troppo accentuata dei tiri a pallonetto, la soddisfazione regalata dal tirare dalla media a lunga distanza è supportata da una traiettoria finalmente più fedele alle proprie scelte in fase di mira. Nulla di tutto ciò sarebbe ovviamente apprezzabile se la reattività dei portieri fosse rimasta a dir poco lacunosa come negli episodi precedenti del franchise. Fortunatamente anche sotto questo punto di vista il lavoro svolto sembra essere convincente. Gli estremi difensori possiedono ora un'agilità molto più accentuata che in passato e spesso si comportano come ci aspetteremo di veder fare dalle loro controparti reali. Molto migliorato anche il ritmo di gioco, più equilibrato che in passato anche grazie ad una rinnovata precisione dei passaggi, che permette la costruzione di trame palla a terra più convincenti ed una latenza dei comandi sensibilmente ridotta. Non convince pienamente la fase difensiva, sicuramente bisognosa di un'assimilazione più approfondita, ma ad oggi purtroppo minata da un leggero ritardo nella reazione post tackle dei calciatori. Nonostante ciò, tutta la fase di non possesso risulta comunque meno in balia del caso rispetto alle recenti uscite, con un sistema di tracking del proprio avversario che sembra trasportato di peso dal passato e che, insieme ad altri aspetti come una maggior fedeltà alle reali caratteristiche degli uomini del proprio reparto arretrato, permettono una maggiore puntualità nel recupero palla. Croce e delizia di tutto il franchise fa il proprio ritorno anche un sistema di movimento dei giocatori dal feeling semiforzato. La sensazione provata non è mai pienamente di estrema libertà. Peccato capitale per alcuni, elemento imprescindibile di un gameplay ormai assodato per altri, molta della digeribilità o meno di questo aspetto del sistema di controllo sarà inevitabilmente dovuta alle proprie abitudini. Riguardo all'intelligenza artificiale avversaria, la prima cosa a saltare all'occhio è sicuramente la fedeltà della CPU nel ricreare le tattiche tipiche delle formazioni che ci troveremo ad affrontare. Nella selezione di sei nazionali era perfettamente riconoscibile ormai fin troppo noto stile tiki-taka della Spagna, il pressing a tutto campo e senza tregua della Germania o ancora il pericoloso contropiede dell'Olanda. Sensibilmente migliorato appare anche il movimento senza palla dei propri compagni di squadra, ora più inclini a lanciarsi negli spazi e a chiamare palla in modo più ponderato che in passato. Il motore grafico presentato da Konami gode di una sbalorditiva fedeltà dei calciatori virtuali rispetto alle loro controparti reali. Ottima anche l'espressività dei volti, ben visibile nelle smorfie di gioia e dolore, apprezzabili durante esultanze e replay. Migliorato ma non ancora pienamente efficace invece il comparto animazioni. Rispetto alla concorrenza il lavoro da effettuare sembra infatti ancora molto, non tanto nella fluidità e nella fedeltà dei movimenti, ma proprio all'interno della fase di conduzione di palla standard, nella quale anche le poche movenze caratteristiche di questo o quel campione si perdono in un mare di movimenti ancora poco naturali. In attesa dell'uscita, PES 2015 ribadisce come, fra le migliori frecce al suo arco, ci sia un ritorno al passato capace di coinvolgere il gameplay in modo finalmente convincente. Sicuramente tutti gli appassionati del franchise non potranno che apprezzare la ricomparsa di elementi in grado di recuperare il feeling tipico dei migliori esponenti della serie. Non mancano ovviamente zone d'ombra più o meno tipiche della saga, ma le sensazioni positive emerse fin dalle prime occhiate all'edizione 2015 di PES continuano a distillare un cauto ottimismo riguardo ad una ritrovata qualità all'interno del lavoro di Masuda San e del suo team.